Altamonte! Mio fratello è stato ammazzato dalle vostre strade! Portatemi chi l'ha ucciso e vi ricompenserò! Altamonte! Mio fratello è stato ammazzato dalle vostre strade! Portatemi chi l'ha ucciso e vi ricompenserò! Tu sapete che state! Riesci a chi è ucciso a Frolo! Riesci a chi è ucciso a Frolo! Riesci a chi è ucciso a Frolo! O ammazzo tutta la tua famiglia davanti a te! Gio! Roberto! Riesci a chi è ucciso! 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 It's always my choice! Vincenzo, vincenzo, vincenzo. Vincenzo, vincenzo, vincenzo. 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 Che sappiamo dell'americano? Niente. Niente non sapeva. Niente. Niente non parla. Niente non parla. Niente non parla. Questo è l'FBI. La CIA. Interpol. Non sapeva che dice. E se qualcuno che si è messo contro a noi? È nata famiglia. La macchiera era l'americana. La macchiera era l'americana. Ma ha bruciato le poste a merda. Rimane, Simone. Rimane. La macchiera. La macchiera. La macchiera. La macchiera. La macchiera. Non. La macchiera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.